Per una settimana nel cuore d'agosto la nuovissima piazza del municipio di Montecchio diventa teatro dell'Evernacolo del territorio. Dal 7 all'11 agosto si ride con il primo festival delle commedie dialettali che alle 21 porterà per cinque sere divertimento assicurato ad ingresso gratuito con le compagnie del territorio. Si comincia lunedì 7 agosto con le pillole di comicità della compagnia pesarese Farofollie per poi proseguire con i Senza Prescia di Mondaino che proporranno Efeva Ben Neron, a seguire i Rimediati di Borgo Bassano con Toda di Naroba, la compagnia Urbinate APS che presenterà l'Arplit e il Sipario che si chiude venerdì 11 agosto con la compagnia Improvvisando di Vallefoglia che metterà in scena il fidanzato della fidanzata.